Preghiera per la comunione spirituale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevendoti Gesù nel mio cuore, si mescoli il mio corpo con il tuo corpo, il mio sangue con il tuo sangue. Risuoni in me sempre la tua grazia e mi liberi da ogni infestazione, male interdizione e malvagità, perché libero da ogni peccato ti possa sempre servire. Ame. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ame. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. E ci vedremo come ogni sera con il solito appuntamento, sempre alle ore 20, con la decina del Rosario insieme per le nostre intenzioni di preghiera. Vi auguro una felice e una santa vita.